Raga, raga io mi faccio ultime due stasso Oh, ora regà sentiamo Carol che fa SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sì, sono io, ma sono io ahahahah io dico io tanto, tutti i casi dovevo stesso anche esattamente ohhh, seriamente ahahah lui potrebbe essere stato ah riga, chiamamola quella d'emergenza potremmo chiamarla dai, chiamarla adesso guarda guarda non lo dicevo in serio e 是 ahahahah ahahahhhh ahah ahahahhah mahh ahahahyeah ahah maha Volevi trovare invece? Bene ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui con Among Us Oggi siamo in compagnia di un pochino di gente Come vedete c'è Polaretto, Azzanove Se li vedrai nel canale e lo riconosceranno Air Traffic, Air Nico Carol che deve ancora arrivare Che sta crashando, non crashando Ma come gli gira Oggi abbiamo fatto un grande upgrade No non è vero Siamo in videochiamata Cioè non videochiamata Stiamo in chiamata perché non c'hanno di escort A maggior parte dell'anno visto che sono da telefono Eeeh Stavo che sarega Vi sentirete un po' male però Fa ride, fa ride, fa ride Il gioco è bello, è fatto bene Ogni tanto qualcuno crasha ma Non siamo soli di crasha Perché si possono chiccare le persone Ora vediamo cosa dicono Regà? Chi manca? Manca Carol Eccolo qua Start subito Sbrigatevi su Regà ci becchiamo al prossimo meeting Regà ma l'avete giunto al chiamata? A chi? No Regà Silenziale Siamo in quattro comunque aggiungete Oh regà Siamo rimasti noi Li smuteremo Quando chiameremo il meeting Perché Eeeh Suppongo che molti di voi Già conoscano il gioco Perché su Twitch Va alla grande Però io non ho Twitch Sto su YouTube E niente Quindi noi ora Ci andremo a fare le nostre Belle Questi bei trucchetti qua Quelli che sappiamo fare bene Andiamo a Lettrical Subito 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 Qua Qua sta Azzanove No Non riusciamo Eccola Tess Stava scompare Dobbiamo andare subito A disinnescare Muoviamo il cuore Non l'abbiamo perso Uh Hanno ucciso qualcuno Ragazzi Riveccoci Azzanone Perché stava per me Il corritorio Mentre andavo A disera Come si dice Descrivare Io stavo in mezzo Le cose Devevo disattivare Raga Azzan stava Elettrical con me Azzan stava con me Elettrical Se mi voleva uccidere Lo poteva fa E io stavo già All'antena Lavorando a destra I 20 settimai cosi Eccola Io sono Io il voto ce l'ho Io pure ce l'ho il voto Io l'ho fatta una partita Una l'ho persa Una l'ho morto Filippo Ecco Ecco Il nico Bello No Il nico è Che cazzo Ma Il nico è 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 RIP Ci becchiamo dopo Ah Raga Azzan non era Che stava con me L'elettrica Se mi voleva uccidere Lo poteva fa Benissimo Ha fatto un'altra Task Uh Vabbè Il nico è 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 Subito Subito Ah Dovevamo mantenere Ok 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 Andiamoci subito A fare quest'altro Che sta Da ste parti Eccolo qua Subito Subito Ecco Ecco La È un po' Scomodo Comunque Chiamata E giocare Però è l'unico Eh qualcuno Ha lasciato La chiamata Ah Raga Per chi Non so Non so se ho visto Mai ma Ho visto Un polaretto Che usciva Da una bolla Ah Io Non ho visto niente Io Io non ho visto niente E io Io non ho visto niente Io non ho visto niente Non so se ho visto niente Non so se ho visto niente Dovevo scappare È entrato Prima Niccolò E voi se non te lo vede Ho visto uscire così a casa Non so se ho visto niente Allora Dimmi Infatti Mi stai pensando Mi sarà più Sì Aspetta 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 Ho la seconda partita Seconda partita Cerchiamo di non Morire subito Carol l'ha appena lasciato E Carol il purello Positivo Scusate Traduci un attimo Send six things The server No Send six things Ok No memoria no The remote has not responded to Il server Problema No No Oh che angostro Non posso giocare Non posso giocare Niente Non posso giocare No Campio come non posso giocare Cioè ma che è il problema L'ha scoperto A computer si fizza Sto fizzando Addirittura Pistolati Campio Eh Eh Non mi aveva manco visto E allora non è che c'è problemi di rete Ah però giovelli con la rete mobile Ma fanno l'altro Ma è che fa così Sto con la rete mobile Eh appunto No Non c'è Ma metto pure io Sì vabbè Ma che cazzo Perché devo fare Davanti e indietro Oh Raga ma una volta abbiamo veduto questi netto a sinistra Polaretto C'è il strato Ma quando vinciamo Solo cliccando Oh 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 Cristo Pensavo di essere ucciso me Ah Regà io lo so Ho trovato Nicola morto nella stanza dell'ossigeno Basta Non lo viste nessuno Quanto ho vinto l'ossigeno Allora Ma scusami Ma la mia cosa è di nera Ma ci vuol dire a te Sì Ma è una cosa che non conosce Che è un'altra Che è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra Francesco Ti accusi Siamo in due Che palla Raga ma non si può Ancora E poi c'è un'altra C'è vero Ogni volta Che tronca male Campio Ma Tipo io ho visto La botola che si muove Faccio vabbè Se ne staranno Vado là E' stato tipo ninja Vado là E' uscito C'è un'altra C'è un'altra Vado dentro Vado là Vado a disinnescare Torni tu Ma dai una botta Campio Ma non è che Se la botola che si chiudeva Non hai visto A me che c'entrava No Io ho visto La botola che si chiudeva Faccio vabbè Se sta da Quello chi è Chi è se sta da Invece no Io ho pensato Ok Ho pensato Non mi sono Devo far sparire Infatti Poi Sono tornato Non mi sono Poi Grazie.